Come il buon giugno in cui avrebbe detto che comunque non sarebbe preso più di tanto e non sarebbe rimasto debuto dalla eliminazione a farsi valviso andremo nel 2017, ecco che per tutto appunto e per tutta risposta è arrivata anche questa da parte di Carlo Conti che sulla base di quella reazione avuta da Giugno D'Alessio avrebbe detto voi libero Gigi non è l'unico ad avere aggiunto così, c'è un altro che l'ha già fatto sapere che è sto cazzo. Il conduttore quindi ha per così dire voluto tra virgolette esagerare e ha voluto in qualche maniera proporre una sorta di video parodia, una sorta di video risposta in modo insomma come caspita volete per far ridere gli altri ma a tempo stesso anche per probabilmente non dare un vero e proprio monito, un vero e proprio messaggio di natura completa. Aggiungendo poi sapete chi c'è rimasto male, questo cazzo, avrebbe in qualche maniera fatto avere un po' di, per così dire, ripresa quanto riguarda il fatto accaduto al povero Giugno D'Alessio che vi ricordo è stato eliminato a questo festival di Sanremo 2017. 17, questo è quanto, saluto a presto.